La signora Neve, tratto da una fiaba tedesca. La povera Bianca aspettavano tutti i lavori pesanti che la matrigna le affidava. Era lei che spaccava la legna, accendeva il fuoco, prendeva l'acqua al pozzo, cuciva e dava da mangiare agli animali. Bianca non si lamentava mai, anzi, faceva sempre tutto di buon grado. Ogni giorno, inoltre, si sedeva accanto al pozzo per filare. Un giorno, però, distratta dal canto di un uccellino, si punse un dito e il suo sangue macchiò il fuso. Bianca cercò di lavarlo, ma il fuso, per disgrazia, cadde nel pozzo. La ragazza corse dalla matrigna per avvisarla e quella le disse «Adesso arrangiati, va al pozzo a riprendere il fuso!» Bianca tornò al pozzo e, non sapendo bene che fare, si sporse troppo e rotolò giù, sempre più in fondo. Nella caduta svenne, ma quando si risvegliò stava bene, era sdraiata su un prato e sul prato c'era un forno di pietra e nel forno c'erano dei pani che le dissero «Tiraci fuori, se no bruceremo!» Bianca non se lo fece ripetere due volte e li tirò fuori dal forno prima che bruciassero. Riprese il cammino e arrivò accanto ad un albero carico di mele. L'albero disse «Ragazza, mi puoi scuotere, per favore? I miei rami sono troppo carichi e le mele sono mature!» Bianca non se lo fece ripetere due volte, scosse il melo e quando tutte le mele furono cadute, proseguì per la sua strada. Alla fine arrivò davanti a una casetta. Alla finestra era affacciata una vecchina dai denti lunghissimi. Bianca si spaventò e fece per fuggire, ma la vecchia le disse «Non avere paura, ragazza mia! Rimani con me e ti troverai bene! Dovrai solo darmi una mano nelle faccende di casa e ogni mattina dovrai scuotere per bene la trapunta, il cuscino e il materasso del mio letto, fino a far volare via tutte le piume. Così sulla terra potrà nevicare. Io, infatti, sono la signora Neve. «Se mi aiuterai, avrai la tua ricompensa!» La vecchina aveva parlato con tale dolcezza che a Bianca passò ogni timore e decise di restare. La ragazza si fermò dalla buona vecchina per giorni e giorni, le fece compagnia e l'aiutò nelle vicende domestiche. Ogni mattina scuoteva di gran lena la trapunta, il cuscino e il materasso, e tutte le piume volavano nella stanza. E sulla terra, come per magia, nevicava. In cambio, la vecchina si affezionò a lei, la trattava come una nipote e per pranzo e cena le cucinava cibi prelibati per ringraziarla delle sue cure. Ma un giorno a Bianca venne nostalgia di casa, e così disse alla signora Neve, «Nonnina, posso tornare a casa? Sto molto bene qui, ma vorrei tanto rivedere mia sorella e i miei animali». «Va bene, mia cara», disse la signora Neve, «ti accompagnerò per un tratto e ti darò la tua ricompensa». Così, prima di congedarla, le restituì il fuso che era caduto nel pozzo e l'accompagnò sulla soglia di una grande portone. Quando Bianca l'oltrepassò, cadde una pioggia d'oro che le ricoprì il vestito. «Ecco il regalo per essere stata brava e buona con me», disse la signora Neve, «e ora va e sii felice». Non appena il portone si chiusa alle sue spalle, Bianca si ritrovò accanto al pozzo e, quando la ragazza raggiunse il cortile di casa, il gallo cantò, «Kikiriki, kikiriki, la nostra fanciulla d'oro è qui!» Matrigna e sorella la videro dalla finestra e le corsero incontro. Notarono subito che il suo vestito e i suoi capelli erano coperti di gocce d'oro. «Che cosa ti è successo?» le chiesero. Bianca raccontò della caduta nel pozzo, dell'incontro con la vecchina e delle giornate trascorse da lei. «E per i servizi che le ho rese, guardate che dono mi ha fatto!» Il mattino dopo la madre prese con sé Nerina, la figlia prediletta, la portò accanto al pozzo e le mise in mano il fuso. «Adesso lavora e poi pungiti le dita!» le ordinò. Nerina filò, ma si stancò presto. Allora mise una mano si rovi per farla sanguinare. Col sangue sporcò il fuso e lo gettò nel pozzo. Come la sorella, anche Nerina volò giù nel pozzo, svenne e si ritrovò sul prato accanto al forno dove cuocevano le pagnotte. «Tiraci fuori, se no ci bruciamo!» dissero i pani. «Non sono mica matta, non voglio certo scottarmi per voi!» rispose Nerina in malomodo e se ne andò. Poco dopo passò sotto l'albero di mele e questo disse «Scuotimi, scuotimi, le mie mele sono mature!» «Fossi matta!» rispose Nerina, così magari mi cade una mela in testa. Quando arrivò alla casa e vide la signora Neve non si spaventò affatto nel vedere i suoi lunghi denti. Anzi, poiché era sfacciata e pensava già all'oro che avrebbe guadagnato le disse «Posso stare qui da lei?» La vecchietta la prese con sé e il primo giorno Nerina si sforzò di aiutarla e fece quello che la signora Neve le disse di fare. Ma già al secondo giorno si impigri e al terzo giorno addirittura non si alzò nemmeno dal letto figurarsi poi se avrebbe sprimacciato tra punta, cuscino e materasso per far volare le piume. La signora Neve al quarto giorno già non la sopportava più e le disse «Se è rimasta abbastanza te ne puoi anche andare!» Nerina se ne rallegrò e uscì dal portone pensando alla pioggia d'oro che le spettava. Ma non appena uscì su di lei piovero solo pece e piume. Così se ne tornò a casa senza oro tutta nera e impiastricciata e il gallo nel cortile gridò «Chicchirichi! Chicchirichi! La nostra fanciulla nera è qui!» Per quanto si lavasse e si sfregasse la pece non veniva via neanche dopo giorni. La madre le urlò dietro disperata per quella sua figliola tanto pigra quanto sciocca e si pentì di averla educata e viziata in quel modo. Ma Bianca ebbe pietà della sorella e regalò a Nerina metà del suo oro. «C'è un po'»» 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 «C'è un po'»»